Con il mese di gennaio è di fatto partita a pieno regime la stagione agonistica della Comitato Fisi FWG, Presidente Emanuele Ferrari, un inizio di stagione non facile, il meteo e il tempo non aiutato. Ma sicuramente questo inizio di stagione è stato molto difficile e particolare e le preoccupazioni erano veramente molte. Non solo per quanto riguarda l'organizzazione delle gare, ma naturalmente anche perché uno dei nostri principali compiti e obiettivi è quello di permettere ai nostri atleti di prepararsi nel migliore dei modi. È chiaro che la prima fase è stata molto difficoltosa, però si sono trovate delle soluzioni valide. Mi fa veramente piacere nel vedere che adesso, con i primi giorni di gennaio, diverse località hanno garantito l'innevamento e quindi anche la possibilità per i nostri atleti di fare gare. Nel prossimo fine settimana finalmente parte anche la stagione del fondo con lo spostamento. Ricordiamo a passo Pramollo, iniziano anche le prime gare di giovani e seniori semestre nello Scialpino. Appuntamenti clui in questa stagione presidente sostanzialmente due o tre. Tanti altri, i campionati italiani ragazzi e lievi di Scialpino, Uldi e Tarvigi e Senaneve e i campionati italiani ragazzi di Fonda Sappata. Sì, condivido. Finalmente anche tutti gli appassionati, quelli più grandi, potranno anche loro cimentarsi e raccogliere i frutti di tutta la preparazione che hanno fatto, perché sono convinto erano in attesa di questo momento e quindi tutti sul passo Pramollo potranno confrontarsi nel migliore dei modi. Per quanto riguarda le due importantissime manifestazioni che abbiamo qui in Friuli, confermo che siamo tutti in attesa di questi due grossissimi appuntamenti, e quindi sia i campionati italiani di Scialpino, lievi e ragazzi di Tarvisio, ma non di meno importanza anche i campionati italiani di Sci di Fondo, sempre per gli allievi e ragazzi e sua Sappata. Quindi invitiamo tutti gli appassionati a essere presenti e a tifare per i nostri ragazzi del Comitato Friuli Venezia Giulia.